A me hanno regalato un libro la prima volta quando facevo la terza elementare, mi regalarono il libro cuore. Allora, siccome mio padre riempiva sempre il cortile di casse della pasta, perché lui faceva il fornare, aveva delle casse vuote, io ne prendevo una, mi facevo il mio rifugio, andavo là dentro con pane e marmellata e il libro cuore, a mangiare pane e cioccolata, a mangiare pane e cioccolata e a piangere con il libro cuore, è molto bello. Il palazzo di gelato, una storia di Gianni Rodari con illustrazioni di Anna Curti. Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla piazza maggiore e i bambini venivano di lontano a darglielo a leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita e tutto il resto era di gelato. Le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per una finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti e i piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Una guardia del comune a un certo punto si accorse che una delle finestre si scioglieva, i vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa. «Presto!» gridò la guardia. «Più presto ancora!» E giù tutti a leccare più presto per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. «Una poltrona!» implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo tra la folla. «Una poltrona per una povera vecchia! Chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile!» Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a reccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno quello e per ordini dei dottori nessuno ebbe mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono ancora un altro gelato, i genitori sospirano. «Per te ce ne vorrebbe un palazzo intero di gelato, proprio come quello di Bologna!»